Tosta, grande caldo, ma una vittoria che dà soddisfazione. Sì, è sempre bello tornare al Dell'Ara. Poi io che ho fatto un pochino male qua, mi sono andato un po' male con il ramarico di non aver potuto dare il massimo di quello che posso dare, però è sempre bello tornare a questo stadio qua che è bellissimo. Poi facendo questo tipo di partite qua, che non è mai facile, abbiamo fatto una grande partita e ce la vogliamo tutta. Abbiamo fatto 5 gol e abbiamo subito 4, è stata una partita un po' particolare, la classica partita di agosto. Che cosa hai trovato di positivo in questa gara e cosa meno positivo? Sì, abbiamo fatto 5 gol, che non è mai facile una squadra in Serie A. Penso che non ce l'aspettava nessuno, però siamo entrati in campo con una mentalità solo di un risultato, perché noi avevamo solo un risultato che era vincere pure loro. Sapevamo che loro sono forti, una bella squadra, però noi abbiamo fatto veramente una bella partita. Abbiamo fatto 5 gol, poi abbiamo subito 4, che quello rimane un po' male, perché... Sì, sapevamo che una squadra di Serie A può fare 4 gol e anche di più. Però noi dobbiamo lavorare in queste cose, perché noi siamo una squadra propositiva, però dobbiamo già pensare a Brescia, che lì si lasci un po' di spazio, te fanno male, è una squadra che giova bene, quindi dobbiamo stare attenti alla forza offensiva.